Città in Danza è una rassegna concorso di scuole di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e etnico e si tiene in tutta l'Italia. Quindi noi siamo Città in Danza Pordenone rientra in questo circuito di rassegni e concorsi. Siamo arrivati all'undicesima edizione e la nostra Città in Danza, quella di Pordenone, è la prima in assoluta in Italia per numero di partecipanti, si parla di oltre 800 partecipanti ballerini, per numero di scuole, sono 70 scuole che carreggiano e anche per numero, per orario, si parla proprio di una maratona, sono addirittura 14 ore di balletti. Noi cominciamo con il sabato con un work contemporary, ci sarà il maestro Massimo Perugini della Mass di Milano e direttore del Mass Milano della sezione di danza contemporanea che terrà uno stage proprio sul palco dell'Auditorium Concordia. Poi a seguire cominceremo con le varie categorie, abbiamo il premio Miglior Talento per i Solisti e poi il giorno dopo dalle ore 10 fino alla sera si presenteranno tutte le scuole di danza in questa gara che è importante. I premi sono fondamentali per chi partecipa nei concorsi, abbiamo veramente tantissimi premi che consistono non in premi in denaro ma in borse di studio, in stage. Per i ballerini è fondamentale poter studiare con maestri importanti, ballerini e noi diamo la possibilità a questi nuovi, chi vuole proprio inserirsi nel mondo dello spettacolo, la possibilità gratuitamente di vincere delle borse di studio che sono delle lezioni offerte dai nostri collaboratori che sono stage che si fanno in tutta Italia ma anche all'estero. Sono per un montare di 20.000 euro di stage.